È quello che ho detto. È un'assurdità! Io non ci credo! Tu non immagini la sofferenza che possono provare. Per gran parte di loro, il mio mondo è fonte di enorme sollievo. Avanti, guarda con i tuoi occhi. Jaden! Avevano già rinunciato a tutto. Qui non ci sono speranza né dispersione. Dentro il nulla, in cui tutte le coscienze degli umani si fondono, vivranno per sempre, diventando una cosa sola. Ora comprendi, hanno scelto una quiete eterna. No, non è vero! L'inizio della verità si trova in un tempo remoto. Nell'oscurità, dove nulla esisteva, per prima apparve una carta. Poi fu deciso quale fosse il fronte e quale il retro, ed enne l'inizio. In seguito nacquero le stelle. E fu la nascita di questo mondo. Qui gli esseri umani riuscirono a ergersi sopra ogni cosa. Lo stessi erano la carta dell'origine del mondo. In un certo senso, per loro trovare i Duel Monsters fu inevitabile. Ma proprio per questo, i Duel Monsters sono una prova attraverso cui testare lo spirito degli umani. Uno specchio che riflette i loro cuori. Uno specchio che riflette i loro cuori? Immagina che il mondo dove tu vivi sia il fronte della carta. Allora il mio mondo è il suo retro, l'oscurità. Se nel cuore dei due lanti che controllavano i Duel Monsters avesse continuato ad esserci la luce, forse tutti loro avrebbero trovato quiete già in questo mondo. Al contrario, la maggior parte dei loro cuori si è tinta di oscurità e sono stati trascinati nella mia dimensione. Queste sono assurdità! Dove vuoi arrivare? Stai per caso insinuando che tu sei giunto fino a qui? Perché il cuore dei due lanti è oscuro! Esattamente. Io non ho alcuna ambizione. È stato il potere annebbiato da molte ombre a causare il mio risveglio. Non capisci? Il mio mondo prenderà il posto del tuo. È come un flusso di acqua che continua a scorrere dall'alto verso il basso. È una legge della natura. Heidi Jaden, io sono un messia. Non sei affatto un messia. Hai cancellato i loro ricordi e poi li hai portati nel tuo mondo trascinandoli con la forza! Non si può fermare un fiume impetuoso che ha iniziato la sua corsa. Io non ho fatto altro che eliminare pochi piccoli ostacoli. Concentrati, tu dovresti riuscire a capire in che modo è stata data tanta forza al mio mondo. Gli umani più forti cadderò preda dell'oscurità nel loro cuore, sfruttando malamente il potere dei due monsters. Anche tu sei uno di loro. Anche tu mi hai dato la forza che mi serviva. Se è così, una cosa deve essere ben chiara. Guardami! È vero, io sono precipitato nell'ombra. Ma non certo per risvegliarti. Al contrario, è per sconfiggere tutti quelli come te che ho conquistato il potere oscuro! Tu sei una creatura anomala che contiene in sé due spiriti, quello dei due monsters e quello umano. A quanto pare, un essere come te non è più adatto a vivere nella mia dimensione. Puoi pensare quello che ti pare, ma ricorda, non avrai mai questo mondo! Mi hai capito! Non finché ci sarò io a difenderlo! Se lo metti così...